Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video Ciao a tutti e benvenuti in questo prossimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo qui perché voglio parlarvi di una cosa che in realtà se mi seguite un po' avete già notato Come vedete sul mio braccio c'è una Xiaomi Mi Band ed è il modello 3 Ora c'è il modello 4 sul mercato e a detta di molti ovviamente è parecchio migliore rispetto alla 3 perché ha delle nuove funzioni e tutto il resto Non ho ancora avuto il piacere di provare la Mi Band 4 ma sono qui per fare un video riguardo la Mi Band 3 Perché avevo già portato un unboxing che se non l'avete visto vi lascio nelle schede qui in alto a destra che potete andare a vedere E quindi oggi voglio parlare della Mi Band 3 e se secondo me ha senso acquistarla nel 2020 Attualmente su Amazon entrambi i prodotti si trovano allo stesso prezzo ovvero 30€ Però molto spesso ci sono delle offerte sia per quanto riguarda la Mi Band 4 sia per quanto riguarda la Mi Band 3 che scendono di prezzo La Mi Band 4 negli scorsi giorni da un canale di offerte su Telegram stava a 22€ tramite un codice sconto Quindi capite bene che è un ottimo prezzo considerando che io ho pagato la Mi Band 3 27€ circa nove mesi fa a maggio dell'anno scorso La Mi Band 3 ha sicuramente dei difetti perché a differenza dello schermo invece della Mi Band 4 che è a colori e che si vede bene alla luce Questo ha dei problemi di visibilità alla luce del sole infatti se siete sotto la luce diretta del sole farete fatica a guardare lo schermo Anche se devo dire la verità non ho notato tutta questa difficoltà anche perché io lo vedo bene uguale Però ho notato che se invece c'è davvero troppo sole quindi ad esempio in estate mi è quasi impossibile vedere lo schermo all'aria aperta diciamo Quindi considerando il fattore prezzo e considerando che molto spesso ci sono offerte anche per la Mi Band 4 Io credo che non valga la pena scegliere la Mi Band 3 come prodotto da acquistare perché per la stessa quantità insomma di soldi preferirei un prodotto migliore Quindi mi porto a casa la Mi Band 4 che ha comunque delle funzioni maggiori rispetto alla Mi Band 3 e che è comunque un prodotto a livello qualitativo migliore Il problema però sta nel fatto se conviene davvero fare il passaggio dalla Mi Band 3 alla Mi Band 4 Quindi se come me avete una Mi Band 3 che avete acquistato magari da poco e non vi va di cambiarla Vi ponete questa domanda E' una domanda che mi sono posta in realtà più volte se davvero ne valesse la pena cambiare dalla Mi Band 3 alla Mi Band 4 E la risposta che ho trovato è nì Cioè nel senso secondo me dipende molto dalle esigenze di persona a persona Per l'uso che ne faccio io che lo uso praticamente come contapassi e come activity tracker insomma per quelle poche pochissime anzi volte che faccio sport Direi che non ne vale assolutamente la pena di spendere altri 20 euro almeno per il momento per passare alla Mi Band 4 Sicuramente la Mi Band 4 è una funzione molto interessante che mi piacerebbe ovvero quella di poter cambiare la musica Ma in realtà non mi serve neanche troppo perché tanto io sto sempre con lo smartphone in mano quindi non mi costa niente cliccare sullo smartphone O magari sull'auricolare che ho, gli auricolari True Wireless quindi con un click cambio, brano o comunque la metto in pausa e cose del genere Quindi per me ovviamente non ha senso passare dalla Mi Band 3 alla Mi Band 4 Però magari alcuni di voi potrebbero voler fare questo upgrade quindi dipende molto dalla persona E' una cosa molto soggettiva Mentre per chi volesse acquistare una Mi Band e non sa quale scegliere tra la 4 e la 3 Ovviamente a parità di prezzo è consigliabile scegliere la 4 Anche perché come già vi ho detto oltre le funzioni ha anche uno schermo migliore Che ha colori a differenza di questo che è bianco e nero e soprattutto si vede bene sotto la luce del sole Ora però voglio sapere anche da voi che cosa ne pensate della Mi Band Se ne avete una, se ne volete comprare una e cosa ne pensate delle differenze tra la Mi Band 3 e la Mi Band 4 E se secondo voi vale la pena cambiare dalla Mi Band 3 alla Mi Band 4 E niente io direi che con questo video ho concluso Fatemi sapere se volete vedere altri video del genere perché a me piace molto parlare di questi argomenti così tecnologici Quindi magari potrei pensare di portarne altri in futuro E niente io vi ringrazio per la visione spero che questo video vi sia piaciuto Se è così state mi lascia un bel pollicione su, commentare e iscrivetevi al canale se ancora avete fatto E noi ci vediamo prossimamente con il prossimo video sempre qua sul canale Bella